Il Panigale 1299 rappresenta un nuovo benchmark sul motociclo sport. Abbiamo migliorato l'area principale della bicicletta, iniziando con il corso di ogni motociclo, l'engino che ha un displacimento aumentato dal 1198cc al 1285cc, grazie al nuovo pistone che ha un numero incredibile, il risultato è arrivato a 160 mm. In addition, abbiamo l'inletto e l'exporto completamente re-define e grazie a questo pacchetto abbiamo ottenuto una performance incredibile. Ora il massimo di potenza è di 205 hp, che significa più di 10 hp sul modello precedente. Ma, principalmente, la nostra attenzione è stata fondamentale sui comportamenti e caratteristiche. Infatti, ora abbiamo un'incredibile aumentamento del torque nel medio e con un alto rpm. Non solo i veicoli, anche le elettroniche sono migliorate con molti nuovi dispositivi. e anche la nostra attenzione è disponibile. Grazie alla esperienza che abbiamo ottenuto l'anno scorso, sia per la competizione e per la motocicletta. La dinamica del veicolo è anche migliorata, ma, come già dicevo, l'elettronica ora ha nuovi e importanti dispositivi. Il controllo del veicolo è disponibile come un equipamento regionale per tutta la famiglia come il nuovo cornering ABS con il più leggero ABS ECU. Anche, il veicolo è disponibile con un schifo rapido che permette il rider di andare in edificare senza utilizzare il claccio. Alla fine, il stile. Il stile fu completamente raffreddato, sia nel fronte che nel rear. Alla fronte, come vedete, la modificazione fu raffreddata non solo per raffreddare e raffreddare il stile del modello originale, ma anche per migliorare la performance, perché il fronte del veicolo è più ampio, il vento è più ampio. Questo permette al rider di avere più protezione. e questo permette di migliorare la performance aerodinamica della moto.